Sono stati circa un centinaio gli spettatori che nel pomeriggio di domenica 18 agosto hanno assistito allo spettacolo Dov'è la voce mia? Una rappresentazione teatrale liberamente tratta dalla vita della poetessa Beatrice di Pian degli Ontani, spettacolo scritto e interpretato da Michela Innocenti, presentata in collaborazione con gli artisti dell'associazione Il Circo e la Luna. L'iniziativa, organizzata dal comune di Bagni di Lucca, si è svolta nel parco di Villa Fiori, recentemente recuperato grazie ad alcuni volontari che lo curano e che lo hanno anche trasformato nel Bosco degli Ignomi. Tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale, oltre che fornire un prodotto culturale di livello ai turisti e non solo, quello di promuovere appunto questo parco, affinché possa divenire il centro culturale estivo della Val di Lima. Lo spettacolo ha raccontato le vicende di questa donna, una pastora vissuta nell'Ottocento, che, seppure analfabeta, era in grado di improvvisare versi in rima e cantarli in modo davvero straordinario, tanto da affermarsi come artista e come donna, arrivando ad esibirsi davanti al re Vittorio Emanuele II nella città di Firenze. Al termine, tanti applausi per la protagonista, che ha dominato la scena con il suo monologo per oltre un'ora. Grazie.